Convocata l'Assemblea dei soci della Comartel, un'associazione artigianale che opera ad Alcamo, a convocarla è stato il Presidente Giuseppe Orlando, il quale riferirà del recente incontro che ha avuto con il Sindaco Domenico Surdi e nello stesso tempo illustrerà agli associati quale sono state le richieste. Ebbene, ma oltre alle richieste nei confronti dell'amministrazione, per attuarle avete dato un ultimo atomo? L'incontro per me è stato un momento importante per fare il punto della situazione, è dimostrare ad oggi alla pubblica amministrazione che l'edilizia è un settore portante, dobbiamo dare ossigeno a questo comparto. Noi abbiamo toccato diversi punti, ma i più importanti sono quelli legati all'economia e all'occupazione. Abbiamo fatto notare che con questa macchina amministrativa che non snellisce le procedure, ma anzi peggiora un po' quella che è la situazione di rilascio delle autorizzazioni, non ci siamo. Noi vogliamo che ci sia una macchina amministrativa più alla portata dell'imprenditoria che permetta di attivare subito i processi di avvio delle attività. Quali sono le attività del riferimento? Allora, nello specifico, visto e considerato che abbiamo trattato il settore dell'edilizia, abbiamo detto che non è possibile aspettare oltre 30 giorni di tempo per avere una concessione di un solo pubblico per montare un ponteggio, faccio un esempio, o per avere il rilascio di una concessione dell'edilizia che bisogna saltellare da un ufficio all'altro, quando invece ci sono comuni che hanno un unico riferimento e quindi avere un referente uno e unico e riuscire a passare le pratiche da un ufficio all'altro dal punto di vista burocratico in maniera telematica, accorce a tempi. Quindi questa sarebbe una buona soluzione. Infatti il sindaco e l'amministrazione tutta è impegnata sotto questo punto di vista a rivedere un po' quella che è la burocrazia. Quindi accelerare i tempi. Noi abbiamo parlato di edilizia ma è solo questo comparto che sta soffrendo molto in questo periodo anche per una congiuntura nazionale. Sì, purtroppo è così anche perché il comparto dove ci sono state delle perdite di posti di lavoro che sono numeri importanti. Qui si parla di circa il 60% di occupazione che viene meno. Quindi pensiamo un po' a quello che è la percentuale che arriva da questo comparto. E poi riuscire a valorizzare e a svegliare questo settore significa portare economia anche agli altri comparti. Avete dato dei tempi all'amministrazione comunale? Ma loro sanno che più tempo si perde. Peggio è per l'economia locale. Hanno un progetto che ci hanno illustrato e che noi condividiamo. Che è quello che l'edilizia non può pensare di muoversi solo nel settore delle nuove costruzioni ma anche nel settore della valorizzazione del centro storico con interventi che sono di ristrutturazione e di ripristino. Se riusciranno a portare avanti questo progetto noi lo vediamo bene. Quindi ci sarà una vigilanza alla tua associazione? Sì, senz'altro. Ci saranno ripetuti incontri tant'è che questo incontro che faremo lunedì sarà mirato a uscire fuori con un documento da presentare alla pubblica amministrazione.